Il Bastione San Carlo di Forte Falcone è aperto al pubblico in occasione delle festività pasquali, una novità interessante per tutti gli ospiti e i residenti che nei giorni di festa potranno visitare un ulteriore settore della Fortezza Medicea. L'apertura è stata resa possibile grazie all'intervento della partecipata comunale Cosimo De Medici che durante il periodo invernale si è occupata della bonifica e del taglio della vegetazione per rendere fruibile la nuova parte del percorso mediceo. Un'operazione che ha coinvolto l'intera squadra comunale, ha spiegato il vice sindaco Roberto Marini che ha lavorato in sinergia con la partecipata. Cosimo De Medici ha avuto un ottimo risultato, oggi per il ponte di Pasqua riusciamo a dare al visitatore in generale ma soprattutto al porto ferraiese perché noi vogliamo restituire innanzitutto il Falcone e le fortezze a chi ne ha diritto per primo, cioè tutta la città di Portoferraio. Qui è stato restituito il bastione San Carlo alla fruibilità che è uno snodo essenziale del forte Falcone che poi ci permette di scendere giù verso Santa Fina che è l'anello mancante che però attraverso dei finanziamenti che abbiamo ottenuto e la volontà di questa amministrazione vogliamo riuscire ad aprire anche quel punto di modo che si possa avere un'ulteriore porta d'accesso alla fortificazione. Quindi un lavoro a 360 gradi della nostra partecipata che ringraziamo perché ci mette veramente determinazione ed impegno, tutto in autonomia con le proprie forze. Una scelta che è stata fatta per coadiuvare il lavoro della partecipata è quella di impegnare al fianco dei nostri operatori, anche operatori che ci sono stati dati dalla casa penitenziaria di Portoazzurro e vorremmo che per il primo maggio ci fosse una copiosa affluenza di cittadini residenti che potranno gratuitamente venire a vedere che cosa è stato fatto.